È stata disposta l'autopsia sul corpo di Eleonora Parisi, la 43enne torinese a Tirrenia, con il compagno Marco, morta nell'area esterna dell'imperiale, dopo che una trave, la quale si era grappata per farsi una fotografia, ha ceduto sotto il suo peso. La donna, che era un appassionata della storica discoteca e della musica anni 80 e 90, sul suo profilo Facebook ha postato nel tempo molti video dell'epoca all'esame autoptico. Sarà eseguito nelle prossime ore a Lucca. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo, al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. I carabinieri hanno fatto nuovi accertamenti sul corpo. Il magistrato di turno, Giovanni Porpora, sta aspettando una prima conclusione delle indagini degli uomini dell'arma che hanno sequestrato il pezzo di cemento e hanno messo anche i sigilli all'area dove la tragedia è avvenuta. Un giardino che si trova tra la terrazza Belvedere, il parcheggio e il bagno sembra che fosse delimitato da vasi e siepi e che Eleonora e Marco Boretti per entrare abbiano scavalcato appunto le fioriere. Una volta accertata la natura di quello spazio in riva al mare, proprio lui potrebbe rischiare anche una denuncia per essere entrato nella proprietà non pubblica. Il cartello di divieto di sosta all'esterno dello spazio indica anche che la proprietà è privata.